abito nel girone accanto non sono quello che ghigna semmai sono quello preferito per le barzellette di ruolo c'è maniera di comunicare con l'inventore di questo luogo magari fa qualche riassunto le fotocopie sono sempre loro qualche frutto non è per tantalo un contrapasso stile discount per tutti noi compreso ora tu bellezza intonza purissima seppure da anni deceduto nessun verme ti ha assalito anche l'odore non è di marcio pensare che proprio tu in vita eri la putrefazione ipocrisia circonlocuzioni dicono sia un segnale di santità per fortuna verrò polverizzato